ok ciao ragazzi siamo su battlefield 2042 deathmatch a team e utilizziamo lo sniper come mi è stato chiesto adesso vi faccio vedere quale meno male ce li ho di base io praticamente andiamo ad utilizzare ls vs 10 che cazzo sparavano già a vederlo nemico almeno e uno è andato erano in due madonna alza la testa merda i fumogeni soldati nemici dove dove sul tetto era vieni a animarmi per la boxeo a 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 c a C'era qualcuno su quel tetto? Che bello nascere così! Niente, non ne vedo! Un nemico a 130 metri! Un nemico a vista! Vabbè, fanculo! Eh, non shot, non shot! Non shot! Sono un po' in difficoltà, eh, con lo sniper devo dire, no? Uh! Un versaglio a terra! niente lui riesce comunque con la metà 21 da un chilometro a rompermi il cazzo me scusate parlo poco ma quando si usa lo sniper cioè si è un attimo che un attimo tanto concentrati e vabbè mtv 50 io non li ho ancora quel cazzo di fucili io ne ho bisogno di uno per fare l'aggressive sniper e questo è troppo è troppo pesante lo fai ma è difficile oh 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 ma vaffanculo che cazzo siete miei eppure c'è qualcuno vicino che fail che fail l'ho preso cazzo ma quindi ci sei non è un cazzo facile davvero era molto più facile battlefield 4 già con i primi sniper i primi fanno cagare bastardo ah ne ha anticipandolo abbiamo un uomo a terra sei ancora lì eh canteria ostile distanza 130 metri non sciottano non sciottano solo in testa sciottano non era quello lo snaggetti dove cazzo sono andati si vabbè rianimami 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 grazie uccisione confermata bene l'abbiamo fatta la 17 e 7 non è ci devo prendere la mano cazzo questi cazzo di di fucili non è anche la balistica non la vedo come come era in battlefield 4 sinceramente era più facile calcolare la calcolare la calcolare la balistica in battlefield 4 anche perché vedevi la caduta del proiettile qua non la vedi almeno io non la vedo la caduta del proiettile comunque dai diciamo che anche il video con lo sniper l'abbiamo fatto adesso non ricordo sinceramente chi me lo aveva chiesto non mi viene il nome ce l'ho sulla punta della lingua ma non mi viene il nome comunque spero che il video ti sia piaciuto spero che sia piaciuto a tutti ovviamente quindi se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like un commento se vi va iscrivetevi al canale noi ci becchiamo alla prossima ciao belli ciao 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 ciao